Salve a tutti, oggi parleremo degli accenti che gli abitanti di ciascun paese del mondo ritengono essere i migliori. In Italia l'accento toscano sicuramente è iconico per ragioni storiche, culturali e letterarie. Negli Stati Uniti d'America l'accento più rappresentativo è quello di Boston. In Spagna tutti gradiscono, secondo i vari sondaggi, l'accento delle isole canarie. In Russia la maggior parte della popolazione è convinta che l'accento di San Pietroburgo sia quello più importante. Per ragioni storiche, culturali e letterarie l'accento di Parigi è quello ritenuto essere il migliore della Francia. In Canada l'accento della capitale Arawa è quello più rappresentativo. In Turchia l'accento di Istanbul è quello parlato da una classe più colta. Secondo gli abitanti del Regno Unito l'accento più bello è quello del Galles. In Germania la popolazione si identifica con l'accento di Berlino, la capitale. L'accento della città di Santiago del Lectero è il preferito dagli argentini. I giapponesi sono concordi nel definire l'accento di Tokyo come il migliore. I brasiliani preferiscono l'accento dello stato di Bahia come il più bello di tutta la nazione. In Peru l'accento della capitale Lima è quello più rappresentativo. Gli irlandesi concordano nel ritenere l'accento di Dublino come il migliore. Nel mondo arabo tutti convergono nella scelta dell'accento egiziano.